E' polemica dopo la decisione del Consiglio regionale di concedere poteri straordinari alla Regione per realizzare gli impianti per i rifiuti. A lanciarsi all'attacco il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano. Da domani, afferma, sarà ancora più facile prevaricare le rappresentanze territoriali nella dislocazione degli impianti, con le conseguenze di carico ambientale che abbiamo sotto gli occhi da decenni, in particolare a Battipaglia e nella Piana del Sele. Il provvedimento in questione prevede che la Regione convochi gli enti interessati in conferenze di servizio, lasciando la possibilità ai Comuni di motivare i dissensi. Nel caso dopo 60 giorni non si trovi una soluzione condivisa, la Giunta regionale potrà comunque procedere con l'approvazione.